Beauty Garden Banketing dispone di 5 sale ricevimenti raffinate e lussuose. Immerso in una natura incontaminata ai piedi dell'Etna, è una location da sogno dove trascorrere i momenti irripetibili del vostro matrimonio. Immerso nella valle dell'Etna, il Beauty Garden Banketing dispone di 5 grandi sale per ricevimenti dalle splendide e raffinate atmosfere. Lussuose nei loro elementi d'arredo e di decoro, particolarmente adatte per un contesto nuziale. La sala Luxury, la nuova sala Regina, la sala Ducale e la sala Romantica. All'esterno della struttura, l'area a bordo piscina circondata da distese di morbidissimo prato inglese, con tre moderne vasche, che danno vita a due grandiose cascate, dove le alternanze di colori, i giochi d'acqua e la soffice luce delle lanterne donano a questa location una romantica atmosfera. In questi bellissimi ambienti sarà inoltre possibile organizzare la cerimonia nuziale in loco in un contesto naturale di suggestiva bellezza. La famiglia Leocata gestisce da sempre questa splendida struttura, con un nobile intento, quello di soddisfare al meglio ogni richiesta dei clienti e per fare del vostro matrimonio un evento unico ed irripetibile. La gustosa offerta gastronomica di Beauty Garden Banketing vi garantisce un banchetto noziale ricco di piatti realizzati con grande cura e passione, che saranno i protagonisti di un banchetto indimenticabile. Beauty Garden Banketing realizza i vostri sogni di nozze, progettando eventi unici e personalizzati.